Siamo a maggio e c'è ancora la neve sulle montagne, incredibile! Ora lo cadiamo! La tua? Non lo so! Ecco un animale dubbioso che cerca di capire se quella è la sua valigia o meno. Ho avuto paura perché la mia era vicino alla tua e vicino alla tua c'era un buco come se qualcuno l'avesse preso. Guardate, l'animale che cerca di afferrare la sua valigia che si muove costantemente. Ha adocchiato la preda e l'ha presa al volo. Va bene tutto essere in Francia, essere qui a guardare il Louvre, la Torre Eiffel, Notre Dame, ma c'è una singola cosa che devo fare quando vedremo alcuni oggetti qui a Parigi. Dopo un lungo percorso finalmente siamo arrivati al nostro hotel. Particolare, piccolo e povero. Particolare perché comunque a parte l'incredibile finestra che mi sta sbiancando. Particolare perché tutto quanto l'hotel è fatto con questi poster vecchi francesi. Piccolo perché letteralmente questa è la stanza. Questo è il giro che avevo appena fatto fare questa è la stanza. Non c'è l'armadio. Però abbiamo il bagno perché l'abbiamo scelto. Grazie alla selezione di proposito e quel bagno privato. Povero perché diciamo che la zona non è sicuramente delle più abbienti. Vabbè ci sta, siamo poracci in viaggio. Comunque proprio vero. È tutto minimo, cioè è tutto piccolo. Come mi lavo le mani qui. Giusto un po' per puntualizzare la nostra situazione. Siamo proprio a zona super strada con il niente attorno. Tutto quanto distrutto e attaccato al nostro hotel c'è questo bellissimo cartello. Però c'è una Ferrari, è la cosa più ricca che ho visto fino ad ora. Porca miseria. Meno male che è martedì dai. Dobbiamo ancora mangiare noi in tutto ciò. Cosa vuol dire qua? Eh non lo so, tu hai studiato francese mica io. Lei che se la ricorda. Aspetta che c'è il traduttore. Ecco la schifezza che ci possiamo ancora permettere di mangiare all'estero. Ma che in Italia non c'è più perché l'hanno penalizzata con la morte. Le pizze di Domino's. Tu che pizza hai preso? E ho preso una burger con cetrionini, peperoni gentilmente offerti dal signore. Da Gesù? No, dal signore al bancone. Allora è il signor. È il signor. E la salsa al curry. E ci hanno dato anche queste bustine di non si sa che cosa. Chili oil. Molto buona. Mi ha valsa il tempo d'attesa. Buona era buona. Però io di solito questo crimine non lo faccio. Quello di lasciare le croste. Ma era veramente strapiena. Cioè io... Io sono full. Devo stare la mangiate. Io sono veramente full. Cioè... Ho mangiato un po' della gelata. Anche bravo. Se non mangi la crosta non hai finito di mangiare la pizza. Però credetemi che la mia era talmente strapiena che non ce l'ho più fatta. Eccola. Partita. Lo voglio. Però ne voglio provare uno, non nove. Magari in casa c'è il singolo. Sai dove c'era tanta scelta e alla fine non abbiamo mai preso nulla di diverso dal solito? A Londra. A Londra ce n'era di scelta sui dolci. Ma infatti, stando qua ha un po' di vibrazioni londinesi. Il problema è che siamo solamente dentro un Lidl. A me invece mi ha ispirato questa qui. Ma non capisco se sono tipo piccanti, se sono quelle acide, boh. Però per 3,39 sembrano fighe. E adesso andiamo alla cassa. Queste come sono invece? Queste sono... Sembra inside out. Quanto è bella l'ignoranza. E infatti, infatti l'hai detto proprio tu che sei ignorante. Esatto. E per quello che ne riconosco un altro. Uccella desperado tropicale, la voglio. Sai che ti giuro la prenderei, ma non abbiamo nessun posto dove tenerla al fresco. Cosa hai ne? Ah, giusto. Dov'è che eravamo che l'abbiamo lasciate fuori al freddo che si sono fatte gelate? A sciare? Sì, madonna, è vero. Il giorno dopo. No, sotto zero. Ne ho prese due, vuoi trovarne una? E ecco la fragola. Sai cosa sembra? Il fragolino. La consistenza è quella del fragolino che abbiamo noi. Come si trova? Mi faccia tanto salivare. Presentati con un mazzo di peperoni, poi vedrai. A lei con un mazzo di peperoni la fai contenta. Siamo arrivati sul fiume che attraversa Parigi. e c'è il leggero odore di pescio. Il leggero odore di pescio. A parte che c'è un traffico inumano, cioè non so se si percepisce quanto la strada sia stracolma, l'ho sentita anche dai clacson. E sono le sei neanche nell'autostrada per uscire ed entrare da Milano a volte. Comunque prima qualcuno si è messo ad ammirare i cantieri dicendo che i cantieri sono belli. Ed eccola lì, in lontananza, la tanto agognata Torre di Pisa. Potete vedere un classico esempio di italiano che appena vede un monumento ci si deve fare il selfie. Allora, è come te la sei sempre immaginata? Non lo so, c'è proprio un senso di smarrimento perché me lo immaginavo meno rumorosa e più orchestrosa, no? Come se qualcuno suona il violino per strada. Come se fosse stato un onore suonare con voi stasera signori. Mi immaginavo tipo un uomo paffuto con i baffoni che usciva con una baguette da un negozio a offrirti un macaron. Amo? Se volevi provarlo. Perché stiamo parlando di tuo padre? No. Signora, i limoni, signora! Carmelo, Carmelo, ciao! Lanciagli un fazzoletto, amo, come segno di addio. Oh, comunque io me li sono sempre immaginati così, eh. Hai visto, amo? EFL 65. Io ti lascio qua. Io so come tornare all'hotel. Ho un cellulare. Ti si sta scaricando internet. Ecco niente, vado a rubare l'elettricità in un'altra parte. Ecco un modo creativo per rovinare le opere della vostra città. Paris 2024, me coglioni. E lei mangia la mela. Comunque io capisco il voler ringiovanire il concetto della politica, delle olimpiadi, aggiungendo statue colorate con tutte le cose delle olimpiadi. Ma la statua blu sta palesemente rappando con la mano messa così. Sta facendo palesemente io. Ma scusa, non l'hai capito che sono i Power Rangers? Comunque quello verde palesemente sta dicendo, sei bravo a parole, ma con i pugni come te la cavi. Ciao me stesso del futuro che starai montando questo video. Ciao me stesso del passato che mi stai facendo montare questo video. Per questa scena adesso fai una ripresa un attimo del cielo e poi però metti anche il pezzo dell'audio. Vai tranquillo, ci penso io. Oggi il cielo è un po' così, asciutto, bagnato, si continua ad aprire, si continua a chiudere, continua ad andare, a venire. Un po' come la tua ex. Ed eccolo lì, un ognomo armato d'ombrello, da solo in mezzo alla civiltà. Ciao! Siamo arrivati alla chiesa americana a Parigi e questa chiesa ha addirittura un canale Instagram e uno YouTube. Quanti iscritti avrà? Non lo so, l'avrò messo di sicuro qua sotto. Quando l'italianità prende il sopravvento su il tuo viaggio, che cosa hai visto? Ho visto una pizza a 5,60€ e ve la faccio vedere. Che cazzo è? Non è una pizza? È un coso con cose che ti dà. E finalmente, girando l'angolo, ci troviamo sotto la Torre Eiffel. Sei contenta? Ci abbiamo messo un po' di tempo per arrivare, però alla fine ci siamo, sei contenta? Come ti senti ora? Senza parole, anche perché vedo gente salire le scale. E tu volevi salire, ci siamo. L'idea era quella, ma al di là dello sforzo fisico... Già hai fatto fatica ad arrivare qua a piedi? Non hai paura. Oh ma che cazzo, si vive una volta sola. Ma saliamo, chi se ne frega. Tanto moriamo comunque, giusto? Fazzati, facciamolo e fammolo. E buttiamoci di sotto. Esatto! In lontananza si vede anche un ascensore comunque. Cavolo, è proprio grossa. È grossa quasi quanto il mio ego. È grossa quasi quanto il mio ego. È enorme. Eh, lo so. Me lo dicono spesso. C'è una luce particolare ora che ha smesso di piovere. Adesso puoi dirlo. Adesso è una Parigi molto più luminosa, molto più colorata, molto più piccione. Ed è incredibile perché sono quasi le 8 di sera. Cioè è uscito adesso il sole. C'è talmente tanta luce che non ti vedo neanche. Siamo sotto la Torre Eiffel qui. Stiamo salendo sulla giostra di Gardaland. No, non è vero. Stiamo salendo alla metà della Torre Eiffel e dalla metà prenderemo l'ascensore per poi arrivare in cima. Giustamente lei diceva, andiamo in cima o a metà? E però mi cacco a salire fino in cima. Però è solo una volta che verremo qua, si presume, poi magari in realtà della vita succede di tutto. Quindi cos'hai deciso di fare? Salire! Starà tutto il tempo aggrappata al palo così. Probabile. Così, però. No, però ci sono le sicure qua. Ma certo che ci sono le sicure. Comunque amo, è più sicuro stare qui che sugli scivoli dei parchi acquatici giù a Bergamo. So di certe piscine giù a Bergamo che la protezione non sanno neanche che cos'è. E certo, coraggio eh. Neanche lui ce la fa più. Non si vede più nulla adesso. Siamo nella parte buia della giostra. Siamo solamente al primo piano amo. E per prendere l'ascensore ci hanno detto che dobbiamo arrivare al secondo. C'è anche un binocolo, ma costa un euro. Beh, siamo già parecchio in alto. Però siamo solo al primo piano. E da quassù si sente un odore fortissimo di frittura di pesce. Quello che avete appena visto era il diagramma di quanti palazzi più alti del mondo. E la torre Eiffel sorprendentemente in realtà è molto più bassa di tanti altri posti, soprattutto in Cina. Mentre qui abbiamo delle fotografie, ovviamente digitalizzate, delle appunto fotografie originali dei primi scatti della torre Eiffel. Ad esempio qui c'è la costruzione, le scale, alcuni monumenti invece in giro per il mondo. Ciao gente di città laggiù. E niente, la salita continua. Ed ecco c'è la seconda metà. Let's go, let's go. Ne vale la pena per la vista eh. Però anche vale come cardio questo. Siamo infine giunti sulla cima più alta. O per meglio dire c'è ancora un pezzettino di scala che ci porta ancora più su. Però questo è il punto panoramico più alto di tutta quanta la Francia. Chissà da quanto tempo sono qua fermi. Chissà da quanto stanno discutendo. Lei ne è assolutamente piena le palle di questa discussione. Mi sono stupata. Ma chissà com'è di sciare in cima alla torre Eiffel? Cosa cambia? È esattamente come andare in aereo. Con un'unica differenza. Con la consapevolezza che non ti stai muovendo. Per la serie souvenir inutili. Per 3 euro puoi comprarti una banconota da 0 euro. E una volta scesi dalla torre Eiffel finalmente si è fatto buio e si è pure illuminata. E vai! Noi però siamo blu. E vabbè. Visto? Eiffel 65! I'M BLUE!! dadbudidabudai E da budi da budai, 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 da budi da budai. Neanche a farlo apposta stavamo per uscire, è partito un urlo wow e infatti si è illuminata anche la torre Eiffel. Com'è? Bella. Bella.